Radio Radicale, siamo con l'onorevole Claudio Borghi della Lega per parlare del governo. Onorevole ancora per pochi minuti. No, va bene, va bene, però sempre... Adesso sono senatore. Va bene, va bene, va bene. Onorevole fino a mezzanotte del 12 ottobre. Esatto, e poi senatore perché sto invecchiando col tempo. Allora, senta, come trova il dibattito che c'è sui ministri tecnici in un governo che dovrebbe essere politico? Lei è rimasto sorpreso da questa cosa, ci sono tanti esponenti politici che sanno fare bene gli economisti, perché non andare al governo? Qua per esempio lei. Così vuol far morire di crepacuore il povero Mattarella, no? No, no, assolutamente no. Perché visto come aveva reagito con Savona, se arriva lì diceva, ma stavamo pensando a Borghi. Gli viene un colpo. No, ma a parte tutto, nel caso non si fosse capito, non l'ho ancora troppo digerita quella cosa lì che uno che in passato ha criticato l'euro non può fare il ministro dell'economia, però ragazzi lui è presente. Poi è andata alla Consob. Eh, si è andata alla Consob. Certo, ha maggior ragione. Non mi pare che sia uscito da non so che cosa, dalla borsa. Quindi, vabbè, però il presidente lui è quello che vuole. Ma il fatto di ricercare il tecnico è perché, secondo me, l'economia è una materia che spaventa molto. Io credo che un ministro debba essere soprattutto un buon manager, secondo me è motivo per cui io non credo che sarei bravo. Nel senso che non sono un bravo programmatore, ecco, anche se la materia ovviamente la conosco, specialmente quella dei mercati finanziari. Quindi ci deve essere una persona che sa gestire bene tante persone. Quindi questo per qualsiasi ministero, secondo me. Quindi credo che si cerchi un profilo, diciamo, manageriale per questo tipo di ragioni. Come ha trovato il nome di Panetta, che probabilmente non andrà, secondo molti, e anche gli altri nomi che sono girati? Ma, Panetta ho una grande stima. Era, diciamo, fra quelli del direttorio della Banca d'Italia, quello, diciamo, con cui avevo più familiarità. Però trovo che il motivo principale, secondo me, per cui, se, se, perché io sto sempre parlando di speculazioni, e magari invece sarebbe contento di fare il ministro, ma uno dei motivi principali per cui, tutto sommato, capisco abbastanza bene la ritrosia di prendere la carica, è che lui è l'unico italiano nel bordo della Banca Centrale Europea. E non è assolutamente detto che, in caso lui lasciasse l'incarico, venga sostituito da un altro italiano. Quindi è molto importante per noi avere qualcuno in BCE. Sì, teme che l'inasprimento della guerra peggiori ancora di più la condizione economica del nostro Paese e impedisca di attuare il vostro programma. Allora, volevo chiederle quanto si è spaventato di quello che è successo nel Regno Unito, dove hanno provato a fare una riforma fiscale che ha creato quelle fibrillazioni nelle borse, e lei conosce molto bene le borse, e hanno indotto Litz-Strasse a fare marcia indietro. Allora, non era la flat tax quella di Litz-Strasse, però era una grossa riforma fiscale. L'ha preoccupata questa cosa? Questa cosa che potrebbe creare anche dei problemi a noi se dovessimo mettere le mani su qualche grossa riforma? No, mi preoccupa vedere che in certi casi anche in grandi stati come la Gran Bretagna sembra che non si conoscano le basi. Cioè, le condizioni tali per cui a determinate azioni corrispondono determinate reazioni da parte dei mercati, da parte del cambio delle monete, sono secondo me abbastanza prevedibili. Quindi, nel caso della Gran Bretagna, il problema non sono i titoli di Stato, il problema è la moneta, perché hanno una moneta indipendente che gli consente di avere molto più margine di manovra rispetto a noi. Però è ovvio che nel momento stesso in cui anche loro importano più di quello che esportano, nel momento stesso in cui ne stampano di più, cioè quindi pensano di fare maggior deficit per incentivare l'economia, inizialmente è evidente che la moneta scende. Però uno non dovrebbe spaventarsi di questo fattore. Certo che tutto va considerato assieme. Cioè, se io sto importando più beni, scende la mia moneta, è ovvio che le mie importazioni diventano più care, quindi al momento mi preoccupo. Però dall'altra parte è anche una cosa che, se accompagnata bene, può portare maggiore industrializzazione. Quindi, boh, cioè, non penso che si siano spaventati per niente, ecco, se devo dire gli amici inglesi. Quindi, secondo lei, l'Istrasse avrebbe dovuto proseguire? Credo che alla fine non sarebbe successo niente di male. Senta, un'ultima cosa. Pensa che i mercati siano in agguato contro il nostro Paese, non appena il nuovo governo entrerà in carico o dipenderà dai nomi? I mercati scontano già tutte le informazioni del caso. Cioè, il mercato si sposta se c'è qualcosa di inaspettato. In questo momento i valori attuali di mercato includono già tutte le informazioni possibili. Quindi non c'è nessun dubbio, insomma. Cioè, reagirebbero paradossalmente se il governo non trovasse dei problemi, ecco, no? A partire, ma al momento tutti sanno già tutto. Ecco, il segnale di oggi che lo spread sta rialzando, il prezzo del gas è sceso a 145, cosa la induce a pensare? Nel momento in cui la guerra sta diventando più aspra? Beh, io sono oggettivamente più preoccupato per la guerra. Cioè, non ci vuole un genio a capire che se una delle due parti rifiuta totalmente, come mi è parso di capire, ogni tipo di negoziazione si va a che cosa? Cioè, alla guerra fino all'ultimo uomo? Fino agli ultimi mesi? Poi ci stupiamo se bombardano le città o similari? Mi sembra che con una certa qual leggerezza si vada verso escalation che possono essere pericolosi. Bisogna cercare di arrivare alla pace in tutti i modi. Bene, grazie come sempre, grazie all'onorevole Claudio Borghi, futuro senatore della Lega. Grazie.